Da conoscenza e coscienza attuale del passato piemontese di Renzo Gandolfo. La mancanza, la perdita di coscienza che qui si intende riprovare è la mancanza di quella rielaborazione personale dei dati offerti dall'esterno, che diventa impulso di condotta, di azione. Deficienza, frutto di quell'egotismo di fronte ai fatti sociali che ci si illude non tocchino noi direttamente, quasi fossimo in limbi privilegiati. Indifferenza o grigiore che ci fa vivere alla giornata e spezza la catena che lega passato, presente e avvenire. E' qui che conoscenza e coscienza, i due termini del tema annunciato per il mio discorso, vengono ad essere facce alterne dello stesso problema. Giano Bifronte che sbocca logicamente nella considerazione del terzo, quello dell'attualità. Se non si ha conoscenza, materiale su cui riflettere, non si può con un processo negativo positivo derivarne coscienza, che è atto attualità di condotte e di fini. Attualità è l'essema di un concetto complesso, ambivalente nella sua semantica. Ce ne serviamo nel linguaggio quotidiano per significare quello che è oggi corrente. E sotto questo punto di vista ho già anticipato che la indagine e lo studio dei fatti e dei valori della civiltà piemontese è attuale, sia pure sui piani distinti della ricerca scientifica e di quello cui le manifestazioni effimere popolaresche più o meno coscientemente aspirano. Ma attualità è filosoficamente il passaggio dalla potenza all'atto, actuositas, capacità cosciente di generare atti con una tendenza certa, un divenire dei germi già impliciti nella potenzialità. Ed è questo lo scopo al quale fa capo il mio discorso, dal passato appreso e valutato criticamente, trarre direttive per l'avvenire, senza entrare nell'equivoca cherella se la storia sia o non sia magistra vitae. La storia non si ripete, cambiano gli attori, i fattori naturali, le situazioni economiche e tecniche, i problemi delle popolazioni, le tipologie delle attività, in modo tale che non si può avere dei cicli storici del tutto uguali, ma solo dei corsi analoghi, degli incontri. Sono i valori di fondo che non mutano, i modi del comportamento, la fedeltà che non tradisce la parola, la necessità della certezza del diritto, la sudditanza alle regole dell'equilibrio del dare e dell'avere civile, la sacralità dell'obbligo assunto, il codice genetico dei diritti e dei doveri che assicurano la continuità del civile consorzio umano.